La tecnologia sta invadendo la nostra vita quotidiana. Mercedes-Benz ha deciso di essere pioniere in questo percorso. Andiamo a scoprire assieme nuova classe A. Colpisce subito il nuovo design accattivante sportivo, accompagnato da performance migliorate su tutte le motorizzazioni, tra le quali spicca il nuovo 1.3 benzina da 163 CV che garantisce riduzione dei consumi e dei costi di gestione. Anteriore è completamente rinnovato, caratterizzato da linee che rendono iconico lo stile Mercedes-Benz. Notiamo subito il nuovo design dei fari in questa versione multi-beam LED che garantiscono aumento di visibilità e sicurezza su strada. Troviamo un design rinnovato anche nel posteriore. Molto intelligente è la soluzione adottata per i fari che ci permette un vano di carico più ampio e una capienza aumentata di 29 litri. Appena saliamo, rimaniamo colpiti dalla cura delle finiture e abbagliati dal nuovo sistema infotainment MBUX che possiamo controllare dal touchpad, dai comandi al volante oppure con il touchscreen. Ma la vera innovazione è il comando vocale che ci permette di comandare tutte le funzioni. Andiamo a provarlo. Ehi Mercedes! Sì? Imposta la temperatura a 20 gradi. Sto impostando la temperatura su 20 gradi. Questo ci permette di rimanere concentrati alla guida e non farci distrarla. Dopo aver provato nuova classe A sono rimasto piacevolmente sorpreso da stabilità e maneggiovolezza nei cambi di direzione uniti ad un comfort di assoluto livello per la categoria. Ci vediamo al prossimo video con le novità della Stella. Ciao! 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 Grazie a tutti.